Hanno un volto i componenti del commando che la sera del 23 marzo 2022 mise a segno la rapina milionaria ai danni dell'Istituto di Vigilanza Ivri Sicur Italia nella zona commerciale di San Giovanni Teatino, con l'operazione scattata questa mattina alle 4 la svolta di quasi due anni di indagini. È stato un eccellente risultato portato a termine grazie al lavoro costante, alla professionalità, alla bravura dei colleghi della squadra mobile di Chieti, unitamente ai colleghi della squadra mobile di Foggia, visto la provenienza geografica della maggior parte dei soggetti indagati, sotto il coordinamento del servizio centrale operativo di Roma. I puntosei sono stati ristretti nelle case circondariali. Eseguite le misure restrittive disposte dal GIP di L'Aquila che ha accolto la richiesta della procura distrittuale antimafia, tre a Cerignola nel Foggiano, una in provincia di Bat, una nel Chietino e una nel Terramano. Queste ultime due per soggetti che hanno dato base logistica prima e dopo il colpo a criminali altamente specializzati. Sono tecniche, poi abbiamo avuto modo di vedere anche i filmati, insomma si muovono come se fossero dei militari. Rapina aggravata, blocco stradale, ricettazione, incendio, detenzione e porto di armi, i reati contestati e aggravati dal metodo mafioso. La banda di rapinatori, incappucciati e armati di mitragliette e pistole la sera del 24 marzo, assaltò l'istituto di vigilanza dopo aver incendiato un'auto davanti al cancello e reso inaccessibile la zona dando alle fiamme alcuni camion lungo le strade di accesso e spargendo chiodi sulla rampa dell'ingresso dell'assattrezzato. Con una grossa ruspa i rapinatori hanno sfondato il muro dei locali dove vengono lavorate le banconote ma non sono riusciti ad entrare nel cavò. Si dovette raccontare di circa 5 milioni di euro lasciandosi alle spalle uno scenario da guerriglia urbana. Grazie anche all'apporto dato dagli operatori della polizia scientifica che è stato possibile ricostruire tutti i passaggi e quindi arrivare al risultato di oggi. In mattinata eseguite anche perquisizione a carico di 23 persone coinvolte a vario titolo nelle indagini della polizia perché gli arresti di oggi non chiudono le indagini che proseguono e ci saranno sviluppi tra qualche mese. Ci sono altri fatti reato analoghi in contestazione la cui competenza ricade anche quella in altri distretti giudiziari.